Per sempre, se avete delle domande, scrivetele in chat e se riesco rispondo pure. Abbiamo tutto? Sì, sono le 15, 16 e 06, si può anche cominciare. Allora, intanto buonasera a tutti. Oggi è giovedì, poi ci vedremo settimana prossima. E oggi è una lezione un pochino particolare, nel senso che paradossalmente, anzi quello ve lo dirò dopo, paradossalmente può sembrare una lezione un po' particolare, dove vedremo alcune serie, alcuni spezzoni di film, in realtà non vedremo gli spezzoni di film, ma vi parlerò appunto di alcuni film, dove sono elencati, cioè dove sono mostrati alcuni drink. E vediamo anche perché. Perché ci sono alcune serie dove non sono stati messi cocktail a caso, ma hanno un certo significato. Allora, partiamo subito. Messia, penso che questa serie è una serie poco conosciuta e ne hanno fatto solo una stagione, perché effettivamente è una serie un pochino particolare, nel senso quando parli di religioni. E qualcuno fa incavolare, sono tutti, come si può dire, molto suscettibili, eppure la religione non è una cosa da fare, cioè non si può essere sempre suscettibili. Messia è una, hanno fatto una sola stagione, poi l'hanno bloccata. Messia, ovviamente non c'è nessun cocktail citato in questa serie, a parte il, colui che lavora per lo scimbette, lo scimbette sarebbe uno, una frangia del servizio segreto interno israeliano, che lui beve alcolici, nel senso si beve il suo whisky. Poi compare a un certo punto, tra le mani di questo personaggio che vedete alla mia destra e alla vostra destra, Eva Geller, che è uno dei protagonisti, sarebbe un consulente della scia, che fa indagini su questo personaggio che si spaccia come Messia, che pare che faccia anche i pinacoli, però dice, ma improvvisamente questo che cosa fa? Cioè nel senso è davvero un Messia oppure è un impostore? Decide di andare a bere qualcosa insieme al suo collega israeliano. Il collega israeliano prenderà un semplice whisky con due cubetti di ghiaccio, così come si beve all'americana. Lei sceglierà un club soda. Io erano anni che non ne sentivo parlare del club soda, pensavo di aver cancellato ogni traccia del club soda nella mia testa e dicevo un club soda, ma io l'ho già sentito. Che cos'è questo club soda? Voi l'avete mai sentito parlare del club soda? Io non l'ho mai sentito, nel senso che se voi l'avete mai sentito parlare me lo potete dire, però non credo, non credo. E infatti Emanuele dice di no. E è vero, il club soda non fa parte di nessuna codifica IBA, non è mai stato in nessuna codifica IBA, è una cosa piuttosto anomala. Perché una ricetta di un soda cocktail in realtà si trova in molti ricettari degli anni venti. Questa ricetta che state vedendo si chiama soda cocktail e è tratta dal libro di Ferruccio Mazzon, dal libro Il barista alla guida del barman. Che cos'è alla fine club soda? Non è altro che acqua gassata con due gocce d'angostura, oppure in questo caso di orange bitter. Notare anche l'italiano dell'epoca, io oggi se trovo su un compito trovo scritto gocce con la I, non ce la posso fare. Lo correi, ovviamente lo correggo, non si può scrivere gocce, però negli anni venti si scriveva in una maniera un pochino diversa. Quindi ordinare un club soda significa semplicemente, per un cliente anche moderno, a parte non credo mai che ve lo, cioè non so mai se qualcuno ve lo chiederà, è una cosa talmente vintage, atipica, che ripeto, io l'ho vista in questa serie e mi sono meravigliato. Ordinare un club soda significa voler comunque ordinare un cocktail, voler far preparare un drink al barman, ma assolutamente bere qualcosa di analcolico, che non contenga alcol. Quindi alla fine il club soda non è altro che acqua gassata con qualche goccia di amaro. In questo caso l'orage bitter, l'orage bitter, come ho detto già altre volte, era un prodotto molto utilizzato negli anni venti, negli anni trenta, è un cosiddetto prodotto prima del proibizionismo. Poi era sparito, era sparito dalle scene, mentre è rimasta l'angostura. L'angostura è sempre rimasto sul mercato, soprattutto sul mercato dedicato alla miscelazione. E l'orage bitter è ricomparso agli inizi del 2010, perché negli Stati Uniti un po' prima, agli inizi del 2010 per il semplice fatto che ci sono, hanno riscoperto alcune ricette vintage e ovviamente se non hai tutti gli ingredienti non riesci a replicarla. Quindi messia, andiamo avanti. Poi parleremo anche di qualche serie in particolare. Ora, penso che questa serie qualcuno di voi l'ha vista, ovviamente, credo, eh? Non lo so, ditemi voi. Sia una serie piuttosto nota, conosciuta. Ovviamente oltre a mettere presente, guardate. No, no, spoiler, spoiler. Vorrei tanto spoilerare, però non so quanti non l'hanno vista. E quindi non vorrei rovinarvi il finale. A parte, vabbè, il finale può essere scontato, ma ovviamente non vi voglio spoilerare. La regina degli scacchi parla di un'orfana di nove anni. Vi racconto soltanto un pochino di trama, ma non vi dico null'altro. Vi dico soltanto i punti che ci interessano a noi, perché uno può vedere queste serie per passare il tempo e fa anche bene, non mica fa male. Oppure può notare delle cose che interessano a lui. Cioè, è vero che questa serie parla a tutti. A parte gli scacchi è talmente un argomento di micchia che, cioè, infatti, questa serie parte molto lenta. Non è una serie d'azione. I costumi sono tutti degli anni Sessanta. Quindi, ad esempio, visto che avevamo parlato dei cocktail Iba degli anni Sessanta, ecco, se tu volessi immergerti negli anni Sessanta, le auto degli anni Sessanta, il modo di vivere di quegli anni, i vestiti, eccetera, questa è perfetta. Perché proprio ambientata prende proprio quasi tutti gli anni Sessanta. Mi sembra proprio agli inizi degli anni Sessanta, fino al 1967-68. Quindi è perfetta per immergersi da un punto di vista anche didattico, eh, di imparare in quegli anni lì. Poi è lenta. È lenta perché, o meglio, sembra lenta perché parla degli scacchi. E gli scacchi non è un giochino tipo la PlayStation, con tutto il rispetto della PlayStation, o di Fortnite, o... no, gli scacchi sono una cosa molto particolare. Quindi parla di scacchi e parla di questa orfana che in qualche modo riesce a riscattarsi. In questa serie compaiono tre drink, tre cocktail. Uno è il Gibson. Avete mai sentito parlare del Gibson? Penso di sì. Gibson, chi è che sa come si fa il Gibson? Gibson. Se lo scrivete in chat come si fa, rimane in chat. E ovviamente, se devo mettere un voto in più, perché voi sapete, da PCTO si può avere anche un voto in più, almeno so a chi metterlo. Vediamo un po'. Emanuele, sai com'è fatto il Gibson? Vabbè, ora lo so che tanto qualcuno sta cercando disperatamente di andare su Google, mentre io finisco il caffè e va a vedere com'è fatto il Gibson. Il Gibson, se nessuno risponde, dovrò dirlo io. Vabbè, troppo tempo per cercare su Google, ve lo dico io. Il Gibson è una variante del Martini, dove al posto dell'oliva e dello sprizzo di oli essenziali di limone, si mette una piccola cipollina. Quelle cipolline sotto asceto, quelle minuscole. Ecco, il Gibson è il primo cocktail che compare in questa serie, perché ne compariranno altri due che poi vi racconto anche quali sono. Il Gibson, pensate, questa serie è un paradosso, perché la madre di lei, la madre che ha adottato questa ragazza, Beth, è praticamente alcolizzata, in senso beve tantissimo. E il paradosso qual è? Che il Gibson era nato come cocktail per chi non voleva bere. Voi dite, in che senso? In questo senso qua, pare che c'era un banchiere che negli Stati Uniti, per poter fare in maniera lucida gli affari, a differenza dei suoi colleghi, anziché ordinare un Martini, perché il Martini è il cocktail più bevuto negli Stati Uniti, simbolo proprio del cocktail per eccellenza per gli americani, ecco, lui beveva un Gibson, ma in realtà il suo Gibson non era altro che acqua, fredda, dove dentro c'era una cipollina. La cipollina serviva proprio a differenziare il suo cocktail, che ripeto era acqua, dagli altri drink. Quindi è un paradosso, quei sceneggiatori hanno messo come paradosso che una, che la madre di Beth beva un Gibson, mentre in realtà il Gibson era nato per altri motivi. Quindi il Gibson è il primo cocktail che compare nella regina degli scacchi. Poi compare il Pernod, a un certo punto compare anche il Pernod. Sapete che cosa è il Pernod? Il Pernod, oppure se qualcuno ha visto la scena, se se la ricorda, il Pernod compare a Parigi. Lei va a giocare a Parigi, ovviamente non sto spoilerando tutto, va a giocare a Parigi, trova la sua amica modella che aveva conosciuto negli Stati Uniti, la invita a bere. Lei non vorrebbe bere, non vorrebbe bere perché per fare questo tipo di gioco non puoi essere, non puoi aver bevuto, non ce la puoi fare, allora che cosa fa? Comunque alla fine si lascia trascinare e si bevono il Pernod. Come si beve il Pernod? Il Pernod, l'abbiamo già spiegato, è tipo l'assenzio, nel senso ha lo stesso sistema dell'assenzio. Si mette una porzione di Pernod in un bicchiere, questi sono bicchieri tutti sponsorizzati dalla Pernod Ricard, e poi si aggiungono una parte di Pernod e quattro parti di acqua ghiacciata. Ecco come va servito il classico aperitivo francese. Io quando ero andato in vacanza in Francia, tutti bevevano questo, non bevano mica lo Spritz negli anni 2000, no, bevevano questo Pernod allungato con acqua ghiacciata. Se andate a riflettere, è lo stesso sistema con il quale si beve l'assenzio. L'assenzio non è altro che una porzione di assenzio che viene messa in un bicchiere, viene appoggiato sopra un cucchiaio forato con una zelletta di zucchero e poi si fa scorrere sopra dell'acqua ghiacciata. Oppure c'è un'apposita fontanella che te lo fa scorrere sopra. L'avete già vista in qualche video, quindi non mi ripeto. Quindi il secondo drink, e sarà quello che le rovinerà l'esistenza fino a quel momento, è proprio il Pernod. Poi le rovinerà l'esistenza per un motivo semplice. Lei non vuole bere, però verrà costretta da questo, perché comunque l'alcolismo è un vizio. C'è un vizio. La madre muore di epatite, quindi è un vizio, sì. E l'alcolismo fa anche, sì, diventerà anche lei alcolista, ma poi a un certo punto succederà qualcosa che ha a che fare con l'acqua. Ma io questa non ve la spiego, questa dell'acqua. Questa dell'acqua è bellissima, c'è una scena che compare sia nella prima puntata, che apre proprio la prima puntata. Non ve la svelo perché, poverini, c'è qualcuno che non l'ha visto, poi dice proprio mi sta raccontando tutto. No, ti sto raccontando niente. Ti sto raccontando delle chiavi. L'acqua fa riferimento alla rinascita, come l'acqua del battesimo. Sì, è fatto con l'anice, il perno. Sa molto di anice, ma sa tantissimo di anice. Quindi ha a che fare con l'acqua. Tanto è vero, se qualcuno di voi ha visto questa, ha visto la scena, quando lei va a Parigi a combattere contro il russo, lei beve tantissima acqua. La beve da un mixing glass. C'è un mixing glass. Si versa l'acqua nel bicchiere e beve in continuazione. Quello è un tipico sintomo di qualcuno che si è ubriacato la sera prima, si è addormentato e si è disidratato. Quando tu ti svegli la mattina e sei stato sbronzo, che credo che non sia male, cioè, non deve essere proprio una bella sensazione, la prima cosa che ti chiede il corpo è acqua, è acqua, perché l'alcol ti ha disidratato quasi completamente, quindi vuoi bere. E lei beve tantissima acqua. Quella scena lì va vista in due parti. Va vista come sotto... Esatto, quella sì, era la partita più importante che lei doveva giocarsi, poi si rifarà, eh? Senza raccontare il... Certo, deve essere lucida, perché se vai anche sbronzo la mattina, non sei lucido. Ti frega no, perché il cervello ha bisogno di essere trasparente. Più che il cervello, la mente. Cervello e mente sono delle cose un pochino diverse. Non sono proprio la stessa cosa. Tenete presente anche questa cosa, come dicevano nella serie Dark, Sic mundus creatus est, cioè faceva riferimento a ermetetris megisto. Tutto è nel tutto e la mente nel tutto. So se l'avete vista quell'altra serie. Non ne parlerò, perché altrimenti oggi faremo soltanto... Però è molto interessante, perché è collegato al famoso ermetismo che uno studia a scuola, che spesso non ha capito, non si capisce di che si tratta. Però l'ermetismo è fondamentale, perché è una sorta di decifrazione dei simboli. Quindi il secondo drink che compare ed è collegato anche alla sua caduta. Caduta nel senso che a un certo punto sembra aver perso tutto. E stiamo parlando della regina degli stacchi. Questa è una tipica immagine pubblicitaria del ricà per nome. Pieno, se andate su Google, mettete il nome. E ti fa vedere anche come deve essere... Guardate, sono micidiali negli anni 20, negli anni 30. Quelli delle pubblicità erano micidiali, perché intanto... Allora, facciamo... Usiamo il riflettore. Intanto ti fanno vedere la dose precisa. Ti indicano un bicchiere vuoto, cioè quasi vuoto. Non si può dire che è mezzo pieno. Un bicchiere quasi vuoto con la porzione precisa. Quindi ti indicano il bicchiere da usare, la porzione che devi mettere dentro, che cosa devi aggiungere? Ovviamente devi aggiungere... E guardate, fateci caso, acqua ghiacciata. Non è acqua fredda. No, no, c'è proprio una caraffa. Infatti in Francia si trovano facilmente queste caraffe in terracotta che ti danno, ci metti del ghiaccio dentro e poi completi. E quindi... E questa è la dose, più o meno rispetta il dito del bordo. E questa è la dose precisa. Quindi ecco come viene servito un classico aperitivo alla francese. Un quinto di Pernod, oppure di un liquore simile, sempre aperitivo, e quattro parti d'acqua. Quindi un quinto più quattro parti. E in questo modo. Poi, lei, il terzo cocktail che compare, non necessariamente in quest'ordine, io li ho messi, non li ho messi in quest'ordine qua, perché in realtà compare prima il Gibson, un po' ovunque, bevuto dalla madre e poi lo farà bere alla figlia. Poi compare il Margarita quando andranno a combattere in Messico, nel senso che ci sarà una sfida, un torneo in Messico, anche perché i giocatori di scacchi quando partecipano a questi concorsi vincono anche parecchi soldi, quindi insomma te li devi guadagnare. Questa è la stanza, questo è l'hotel a zè, che in realtà non è un albergo. Quelle puntate lì non sono state girate in Messico, ma sono state girate tutto a Berlino, dove è possibile ritrovare, rivedere le location. E il cocktail che comparirà in Messico, stiamo parlando degli anni 60, sarà il Margarita. Ovviamente soltanto il Margarita può essere. Però c'è una cosa interessante. Il Margarita degli anni 60, o meglio, fatto con il tequila o la tequila degli anni 60 che abbiamo visto la scorsa volta, non è certo la tequila premium che che beviamo noi oggi. Insomma, infatti lei lo dice. Lei, quando mi sto rivelando troppo il finale, quindi mi fermo, lei a un certo punto dice, la tequila non era proprio di buona qualità, aveva detto questa frase qua. Si riferisce proprio alla classica tequila o al classico tequila distillato messicano che negli anni 60 non era quello eccezionale. Quindi il Margarita è il secondo cocktail in ordine cronologico e poi chiuderà il Pernod. Dopo il Pernod ci sarà l'acqua. E l'acqua è un elemento fondamentale per capire tutta la serie. Ma questa ve la lascio a voi. Però vi faccio vedere anche alcune cose interessanti. Allora, questo libro credo che nessuno di voi lo conosca. Non so se voi siete lettori dei libri, eccetera. Se non siete lettori non sapete cosa vi perdete. Allora, tempo fa parlando con un sceneggiatore che scriveva racconti per 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 la Rai di Roma gli raccontavo che in un sacco di telefilm io li chiamo ancora telefilm però serie tv fiction, eccetera ci sono degli elementi messi apposta che se li sai cogliere sei in grado di come srotolare la melassa la melassa no, la melassa è quella per il rum la matassa. A che disse? Certo, guarda che a Hollywood utilizzano tutti il viaggio dell'eroe il viaggio dell'eroe sì sì il viaggio dell'eroe è una sorta di manuale per sceneggiatori dove ci sono tre elementi fondamentali che risalgono ai miti greci e e grazie a questi tre elementi tu puoi riuscire a costruire una trama e ora vi farò alcuni esempi senza spoilerare tanto ormai della regina degli scacchi non ho spoilerato tutto nulla detto qualcosina ma nulla il viaggio dell'eroe è quindi una sorta di manuale che tra l'altro ce l'ho perché questo qui l'ho letto io cerco di citare solo esclusivamente libri che ho letto ecco ti dice come fare una trama vincente ma chi è l'eroe? L'eroe è lo sfigato ce l'ho sfigato tutti noi siamo sfigati chi nasce nel mondo al 99% che cavolo è come allora l'eroe è colui che nasce che magari non ha nulla oppure ha perso tutto e deve riconquistare tutto la regina degli scacchi parte da una ragazzina orfana che ne ha perso tutto non c'ha più la madre la manda in un orfanotrofio con altre ragazze non conosce nessuno e quindi deve ricostruire tutto lei però ha un talento e il talento non basta perché poi a un certo punto vedrete nelle prime puntate che lei ha questo talento anche di vedere nella mente le mosse degli scacchi cioè di visualizzare ora nella serie eh guadagna si guadagna molto nella serie viene fatto passare c'era un'abitudine negli orfanotrofi degli Stati Uniti negli anni sessanta quindi quello di imbottire di tranquillanti le bambine per il semplice fatto per farle dormire ok per effetto sedativo ora non lo so se lo fanno ancora mi auguro di no però alcune di quelle pillole quanto ho capito erano a base di vitamina B e la vitamina B se parlate con il prof o la prof di alimentazione sono fondamentali proprio per la psiche andatela a vedere allora che cosa succede nella serie viene come fatto vedere che sembra che grazie a queste pillole tu riesci a vedere gli scacchi a visualizzare le mosse ad avere questa facoltà che si chiama visualizzazione mentale questa facoltà qui è molto usata dai servizi segreti quando devono mandare una spia a osservare delle cose questa va ma non ci va mica con lo smartphone con la macchina fotografica ci va con la vista osserva memorizza e torna indietro con le informazioni e si chiama visualizzazione mentale per giocare con gli scacchi c'è bisogno della visualizzazione mentale perché tu dovresti di prevedere anche le mosse che faranno gli altri c'è una cosa devastante perché allora diventa devastante nel senso bello del termine perché è avvincente cioè comincia a vedere nella mente le mosse che fa l'altro ecco perché i grandi geni dell'umanità amano gli scacchi perché gli scacchi rappresenta proprio non solo una sfida contro l'altro ma anche una sfida con te stesso perché devi riuscire a prevedere le mosse tanto è vero esatto Roberta brava tanto è vero che anche il professore della casa di carta è uno scacchista non lo dice io mi sembra che nelle nelle varie puntate non lo dice non si dichiara forse a un certo punto però fa vedere in certe scene che c'è una scacchiera già con delle mosse lì quindi quando vedete in un film una scacchiera posizionata in un posto sul tavolo eccetera fa riferimento a una cosa ben precisa nel caso della regina degli scacchi quindi può passare l'idea che grazie a queste pillole lei riusciva a vedere in realtà non è così perché tutte le bambine pigliavano quelle pillole lì però soltanto lei riusciva a vedere nella mente queste cose quindi come vedete bisogna sempre interpretare il viaggio dell'eroe è stato applicato a tanti film di Hollywood questo credo che non l'abbiate mai visto perché risale mi sembra agli anni 80 a 1987 con un giovane Silvestre Stallone che deve riconquistare suo figlio l'affetto di suo figlio ha perso la moglie e gli hanno tolto suo figlio l'hanno affidato al nonno e il nonno lo odiava e quindi lui ti fa vedere proprio quello sfigato che ha perso tutto e che cerca di riconquistare qualcosa per cercare di conquistare qualcosa devi lottare allora ecco che cos'è l'eroe l'eroe va inteso in uno che non ha nulla che però combatte per un ideale in questo caso per un figlio per un obiettivo qualsiasi cosa per un obiettivo nobile perché gli obiettivi sono tanti nella vita l'aumento dello stipendio è un obiettivo ma non è un obiettivo nobile cioè dipende ma non penso proprio ecco il viaggio dell'eroe è una sorta di discatto e questo viaggio dell'eroe che ripeto è una un manuale proprio che non ve lo dicono in giro ma i migliori film di Hollywood quelli che hanno successo fanno riferimento tutti a questo viaggio dell'eroe e ai simboli che ci sono dietro anche questo ad esempio che penso abbiate visto tutti perché questo se non altro è della vostra generazione Oceania questa bambina che nasce su un'isola viene convinta che sull'isola sta morendo tutto a un certo punto perché i pesci cominciano a morire lei dice ok ma che dobbiamo fare dobbiamo morire anche noi e gli dicono no ma guarda che il mare è pericoloso non dobbiamo andare via da qui qui siamo sul sicuro eccetera eccetera malevole andare via a tutti i costi perché dico ma se non vado via morirò e soprattutto non salverò anche voi e guardate fateci caso il mare rappresenta un altro simbolo che ovviamente non vi rispiego perché se vi ricordate nella lezione grog e pancia avevamo parlato del simbolismo del mare del famoso mare che troviamo in Moby Dick che cosa significa il mare il mare rappresenta una distesa d'acqua abisso un abisso che a volte è bello a volte no è bello quando il mare è piatto è trasparente e si può navigare con tranquillità però il mare può portare può essere anche scosso da uragani da correnti da gorgoni cioè cosiddette correnti che i vortici oppure appunto uragani cicloni eccetera dipende ma poi vi dico anche un'altra cosa all'acquario di Genova non so se siete mai stati all'acquario di Genova vi consiglio di andare perché è molto carino all'acquario di Genova c'è un reparto dove ci sono tutti i pesci che si nascondono negli abissi tra cui il famoso pesce è la coda di rospo che c'ha questa specie di lucina che attira tutti i pesci perché qui stiamo parlando degli abissi quindi praticamente dove c'è buio perché il mare il mare sopra è trasparente e tra l'altro nei tropici ci sono tutti i pesci più carini quelli colorati quelli ne tipo nemo eccetera eccetera quelli sono bellini sì anche e poi c'è un motivo per cui ai tropici sono tutti colorati i pesci mentre polo nord e polo sud no ok ma soprattutto quando comincia ad andare negli abissi lì ci sono i mostri mostri si intendono proprio pesci deformi che non sono in grado di sopravvivere alla luce quindi hanno degli aspetti mostruosi e con l'inganno cercano di attirare altri pesci per mangiarseli e la coda di rospo è un classico esempio ti avvicini con la lucina ma quando ti sei avvicinato praticamente sei ormai entrato nella sua bocca e lui ti mangia quindi il mare in oceania rappresenta anche qua una sorta di confine che devi oltrepassare se vuoi diventare in questo caso un eroe signore degli anelli signore degli anelli dovreste conoscerla anche qua anche qui signore degli anelli parte tutto da alcuni hobbit che vanno alla ricerca dei nani e scoprono che i nani erano talmente scavate a fondo in queste gallerie erano talmente scavato a fondo che anziché scavato a fondo perché per trovare il tesoro per trovare le gemme erano diventati avidi ok ed erano talmente diventati avidi che cosa è successo che furiescono i mostri cioè tu diventi avido ok scavi scavi non ha gli strumenti per gestire queste forze che sono interiori perché vorrei e poi escono fuori i mostri tanto è vero che già nel primo signore degli anelli ad esempio c'era questo demone che soltanto Gandalf riesce a tenerlo lontano che voleva seguirle e lui dice tu non puoi passare quindi anche questo è un significato vuoi scavare a fondo nelle cose non ti serve sulla pala ti serve anche qualcos'altro poi non solo in uno dei tanti film c'è della serie il signore degli anelli quello che parla del drago Smaug il drago Smaug non è altro che una forza x y dal punto di vista simbolico perché i draghi non esistono i draghi cioè nel senso sono creature fantastiche però dal punto di vista simbolico grazie Luca credo dell'Hobbit 2 non mi ricordo i titoli però lui scaccia via tutti gliene frega assai il drago dice questo tesoro è mio punto e se te vuoi riconquistare il tesoro devi affrontare il drago affrontare il drago ha un certo significato i draghi non sono animalini proprio simpatici tanti videogiochi degli anni 80 io mi viene in mente Ghost and Goblin ne hanno fatto anche una versione per la Playstation c'è sempre un drago c'è sempre un guardiano che non ti fa passare se vuoi passare il guardiano e devi andare lì armato di tutto punto altrimenti non passi quindi come vedete questi film parlano tutti di questo viaggio dell'eroe e così anche la regina degli scacchi la regina degli scacchi alla fine dal punto di vista simbolico parla del riscatto di una ragazza nata cioè non nata scusate diventata orfana lasciata da sola che quell'unico talento che ha è quello di saper giocare a scacchi riesce a riconquistare tutto però vi fa vedere anche un'altra cosa che per riconquistare tutto lei discende nel senso comincia a bere a bere tanto e questa la porta giù nel fondo non sto spoilerando il finale però vi fa vedere anche un'altra cosa a un certo punto te hai bisogno degli altri perché infatti gli dicono i suoi compagni guarda che i russi durante le partite cioè durante quando fanno i mondiali ok uno si sfidano all'italiana si chiama torneo all'italiana tutti contro tutti e qua in Italia siamo bravissimi a essere tutti contro tutti bellissimo infatti torneo all'italiana e gli dicono guarda che i russi quando sono liberi da impegno si riuniscono si studiano tutti insieme le mosse quindi non c'è più invece dice noi americani siamo più egocentrici uno contro l'altro ma figurati se io mi vido con quello per parlare degli scacchi e fare le mosse no no infatti l'aiutano diventa alla fine un lavoro di squadra questa è una cosa che come diceva qualcuno non ci si salva mai da soli nel senso non bisogna mai disprezzare l'aiuto degli altri non le lemosina le lemosina non ce ne può fregare di meno io le lemosina non la voglio da nessuno io non la voglio ma l'aiuto sì perché tu puoi aiutare ma puoi essere anche aiutato e ci mancherebbe questo deve essere anche una una cosa anche per le vostre classi il famoso il famoso dividi ed impera che cita il professore di carta ma in realtà è un motto latino che gli antichi romani utilizzavano in maniera perfida ma intelligente significa proprio questo se io voglio dividere un gruppo di persone e comandare appunto le divido le metto uno contro l'altro e poi io gestisco il tutto se invece questo gruppo di persone è unito eccetera per me sarà un pochino più un problema quindi divide ed impera sarebbe una cosa proprio da studiare e da comprendere andiamo avanti tanto no vi state annoiando e passiamo a un'altra serie molto amata dove anche qua allora qui sostanzialmente vengo allora intanto se avete domande vedo che la Roberta ha visto la serie e le è piaciuta altrimenti non avrebbe risposto cioè non avrebbe interagito quindi tra l'altro è fatta bene ecco non è una serie fatta male è fatta benissimo poi un'altra serie molto ben apprezzata davvero fatta veramente bene infatti gli spagnoli non l'hanno capita l'ha capita il resto del mondo non voglio dire gli spagnoli come l'hanno capita però in realtà una se ha letto come come è andata con la casa di carta avrà letto come è nata questa storia questa serie eccetera eccetera ha capito insomma che c'è c'è tanto allora comunque la casa di carta è bella le prime delle stagioni vabbè ma noi non non facciamo le seggessi sulle stagioni sì ma ragazzi dovete capire che tutte le serie partono col botto cioè le prime sono sempre le migliori è chiaro anche Dark Dark la prima e la seconda sono fenomenali nella terza si perdono perché non sanno come sbrogliare la matassa Matrix il film la stessa cosa il primo Matrix eccezionale l'idea eccezionale quella di far vedere come funziona la fisica quantistica e come funziona veramente la realtà dell'universo se uno avesse idea veramente di come funziona l'universo non dormiresti la notte ma non dormiresti davvero né di notte né di giorno come quelli che dicono se io dovessi chiedere a Roberta sì Roberta o chiunque anche la Sara ogni tanto vedo anche la Sara ma tu quando guardi le stelle cosa stai osservando realmente ve l'hanno mai fatta questa domanda questo è molto è notte guardi verso il cielo ovviamente di solito nessuno guarda verso il cielo nessuno è di notte va girando però può capitare soprattutto d'estate se sei in campagna sei in un posto isolato dove puoi vedere le stelle la via latte a tutto cosa è che stai guardando stai guardando un'immagine del passato cioè se tu in quel momento ti trasferisci con la mente e con la vista quindi alla velocità del pensiero che la velocità del pensiero praticamente è superiore alla velocità della luce perché il pensiero è immediato pensate la luce è molto meno veloce della velocità della velocità del pensiero se tu ti trasferisci improvvisamente su Plutone nel senso vai a curiosare cosa c'è Plutone Plutone è uno una delle stelle o pianeti dipende come a volte la chiamano pianeti in astronomia si chiamano pianeti poi sono stelle ma si trasferisci in quel momento su Plutone potresti anche non trovare più nulla niente quindi sta guardando una realtà che non esiste uno ed è devastante come anche chi guarda su Plutone oppure guarda su pianeti più vicino se dovesse guardare sulla terra vedrebbe ad esempio la preistoria cioè non vedrebbe noi nel 2022 vedrebbe gli uomini che si combattono con le clavi oddio se vedi anche oggi ci sono gli uomini con le clave certe parti del mondo allora no non è proprio così non è che noi vediamo una cosa immaginaria no noi vediamo anche una cosa tra virgolette oggettiva perché cioè immaginaria a volte può significare uno che è fantastica sogna ad occhi aperti e no invece oggettiva significa che sì vedi una cosa che ti sembra vera ma alla fine se tu la esaminassi con un microscopio che ti ingrandisce 10 milioni di volte praticamente vedresti tante molecole che si agitano e tante cose perderebbero importanza il diamante il diamante che per sempre lo smartphone ultima generazione il braccialetto d'oro di Cartier eccetera se le guardi da questo punto di vista veramente oggettivo ti appaiono come un mucchio di molecole che si agitano semplice effetto della mente infatti cinque sensi sono legati proprio alla mente però torniamo alla casa di carta anche perché tra un po' vi devo far fare la pausa ovviamente nella casa di carta viene citato un solo cocktail e tant'è vero che io l'ho messo proprio dopo il margarita infatti viene citato il margarita quando il professore va a cena si incontra con l'ispettrice e bevono appunto questo margarita in realtà nella casa di carta viene citato anche un altro cocktail nella seconda stagione chi è che se lo ricorda e dove questo vi ho messo proprio le slide e si vede che è un margarita c'è il crusta nel senso c'è il bordo orlato di sale classica coppa sombrero che somiglia più a una coppa frozen in realtà fateci caso questa è una coppa frozen di quella per i frozen dove però dentro è stato servito un margarita tanto è vero che qui si vede io non so se lei l'abbia già bevuto eccetera però il livello del margarita arriva a non è non è pieno ecco perché nel film o il barman che ha fatto questa scena non ha utilizzato la vera coppa margarita quella più piccola ha utilizzato quella frozen quindi è un pochino diversa si parlavano di sidro ma il sidro attenzione non è un cocktail però c'era anche un altro allora chi non l'ha vista non lo so la birra si è citata la famosa birra estrella galizia è citata ma c'era anche un altro cocktail che potrebbe essere un americano o un negroni nella seconda stagione quando quando praticamente credo sia la seconda la terza comunque quando c'è il matrimonio di berlino lui va a bere in un bancone e prende un cocktail servito in un tumblr basso rosso mi sembra con una fetta d'arancia dentro è quello potrebbe essere un americano o addirittura un negroni dato che quelle scene sì sì ci sono anche gli shot ma io gli shot di tequila non li ho non li ho considerati non li considero cocktail gli shot sono molto come si può dire ortodosso in questo lo shottino shottino no commento sullo shottino chiedetemi di non commentare lo shottino però in realtà dato che dicevo che il matrimonio di berlino la puntata dedicata al matrimonio di berlino era stata girata a firenze ok anche se quelle scene in realtà non sono a firenze però è stata ambientata in italia allora presumo che quello sia un negroni oppure un americano però lì non lo dicono non si capisce esattamente che cocktail è qua si capisce perché è un margarita quindi casa di carta si può dire questo questo rappresenta sex and city di cui io non ho visto manco una puntata perché questa è roba da donne non so non so se è roba da donne non so cioè un po' da casalinghe disperate vabbè però a parte le battute sono è una serie molto conosciuta negli Stati Uniti dove il cocktail principe è il cosmopolitan però del cosmopolitan noi ne abbiamo già parlato tantissimo infatti il cosmopolitan coincide comunque metà anni 90 mi sembra che questa sia una serie degli anni 90 fino all'anno 90 quando ormai il cosmopolitan era al massimo della sua del suo apice però oltre a cosmopolitan in questa serie sex and city si parla anche del flirtini il flirtini non è un cocktail iba assolutamente ha un colore molto bello e ha anche una struttura pari particolare perché c'è la vodka Stolic Naya che indica proprio un cocktail stile anni 90 negli anni 90 la vodka la mettevano ovunque nel senso fu il trionfo della vodka quindi la Stolic Naya è proprio il marchio di fabbrica della miscelazione anni 90 poi raspberry vodka quindi potrebbe essere anche addirittura quella aromatizzata triple sec one splash di land juice di succo di lime cranberry juice cranberry dovrebbe essere mirtilli se ricordo bene poi succo di ananas oltre al lime e poi champagne è particolarmente complesso anche troppo secondo me il flirtini non è mai stato nell'iva è un cocktail però che compare in questa serie grazie a questa serie hanno conosciuto il flirtini ma non è mai comparso in nessuna codifica iva io l'ho messo più che altro per curiosità ma anche perché si presenta bene comunque al di là degli ingredienti che sono c'è vodka champagne triple sec quindi qui frutta a tutto andare perché la frutta la sente e l'elemento predominante è la vodka e quella aromatizzata dovrebbe essere quella aromatizzata almeno da come scrivono il triple sec sa di arancia il succo è aggrumato perché sa è di lime cranberry di mirtilli che però cranberry una spruzzata vedete a un certo punto comincia con le spruzzate one splash one splash non c'è più un cl perché una spruzzata ancora ancora però anche se qua questa foto qui non so se proprio è l'esatta fotografia di questo drink bisognerebbe provarlo a scuola oppure a casa poi c'è succo di anas anche qua vai verso la frutta e poi c'è lo champagne e poi vabbè ma questa è una delle tante ricette che trovate sul web dato che non è un drink codificato è chiaro che chi lo conosce perché ha visto la serie che vi ho citato prima ecco ma non è un cocktail famoso allora fine primo tempo come dice nella seconda parte ora facciamo una bella pausa di dieci minuti quanto volete la pausa faccio scegliere a voi oggi mi sento democratico dieci minuti vanno bene di pausa ah nessuno risponde ah meno male qualcuno risponde allora dicevo facciamo dieci minuti di pausa quindi sono le cinque meno cinque dai facciamo anche cinque minuti in più alle cinque alle diciassette e dieci faremo la seconda parte e ci tufferemo in un film c'era una volta Hollywood e andremo a vedere quali sono i cocktail citati e perché vengono citati questi drink quindi ci vediamo alle diciassette e dieci ok buona pausa a tutti riprendiamo dalla pausa vi ricordo che basta una volta soltanto mettere presente allora seconda parte seconda e ultima parte c'era una volta a Hollywood questo film penso che l'abbiate visto no? di lo conoscete? qualcuno che dice sì o no? vabbè anche se non lo conoscete tanto me ne parlerò io allora questo è un film di Tarantino uscito se ricordo bene nel 2019 e si ispira a una storia vera a una strage che accade mi sembra a fine anni 60 infatti anche qua è un film in costume nel senso è in costume con tutti i costumi degli anni 60 macchine anni 60 e così via i personaggi principali sono Brad Pitt e Leonardo DiCaprio tra tutti i film che ho visto di Tarantino che mi faccio impazzire è quello meno violento meno cruento però qua c'è molta miscelazione vedendolo due volte questo film ho notato un sacco di particolari e presumo anche che i cocktail che sono stati citati e vi farò vedere anche quali sono citati in questo film e siano proprio quelli preferiti da Tarantino perché gli sceneggiatori o i registi di solito mettono le cose che piacciono a loro ma allora vediamo intanto il film si ispira alla storia di Sharon Tate Sharon Tate era una famosa modella degli anni 60 che venne brutalmente uccisa è proprio un fatto di cronaca di quegli anni lì tanto è vero che nel film il film ha un finale completamente diverso dalla storia e al Tarantino l'hanno accusato appunto di non aver fatto il film diciamo come si può dire fedele alla storia vera e lui ha risposto ma le storie a volte possono anche finire posso anche immaginare mi piace immaginare che la storia poteva finire in una maniera completamente diversa allora vediamolo intanto nel film vengono elencati per noi che facciamo ristorazione alcuni locali fondamentali uno di questi è Musso e Frank Musso e Frank che vedete la tabella Musso e Frank è uno dei ristoranti più vecchi di tutta Hollywood tant'è vero che risale al 1919 Musso e Frank tanto si può immaginare è un ristorante tipico italiano o a meglio i suoi i suoi fondatori erano italiani viene chiamato anche Musso e Frank Grill ed è il più conosciuto oltre ad essere il più vecchio come ha detto a Los Angeles i clienti tipici cioè i clienti che sono passati tra le sue mura Marilyn Monroe Charlie Chaplin Greta Garbo appunto Brad Pitt John Depp e così via Johnny Depp John Depp è un altro ma questa è l'insegna poi tra l'altro nel film si vedono anche alcune cose interessanti tipiche dei ristoranti americani arrivi con la macchina c'è il parcheggiatore e te la parcheggia lui non è come noi in Italia che dobbiamo andare a parcheggiare c'è tutto un altro modo questo è l'interno del ristorante questa è la divisa che hanno i loro camerieri come vedete non è come da noi che per forza devi essere giovane bello eccetera eccetera per lavorare in sala no se sei un professionista e ti piace fare questo lavoro non ti fanno non è una questione di età tra l'altro la divisa è molto bella nel senso è bello un rosso acceso il classico Spencer sì infatti lo so c'è scritto 1919 1919 perché risale al 1919 e loro non so dove l'avete visto ecco since 1919 risale e quindi praticamente diventa come una sorta di marchio di fabbrica cioè siamo noi quelli più vecchi di tutti la maggior parte dei clienti di Musse Frank che beve queste notizie le ho trovate su internet ovviamente non ci sono stato prendono ad esempio i Martinis e ci sono anche c'è anche la ricetta del Martinis come viene fatto al Musse Grill 2,5 once di gin e mezza oncia di vermut poi anche se in realtà il Negroni sia nato sì ma non c'entra niente il Negroni io il Negroni che sia nato nel 1919 ho un dubbio amletico però non c'entra niente nel senso qua ma tenete presente che il ristorante più vecchio degli Stati Uniti non di Los Angeles non è questo è un altro credo che sia allora dipende il ristorante è una cosa ben precisa la taverna è un'altra cosa le taverne già nel 1800 e passa c'erano soprattutto a New York ma il ristorante il primo ristorante di tutti gli Stati Uniti pare che sia il delmonico di New York che ancora oggi esiste ah sì 1919 ormai è il collegamento col Negroni allora torniamo invece ai nostri protagonisti prima scena Brad Pitt rappresenta cioè nel senso in persona uno stuntman che diventa anche l'accompagnatore di Brad Pitt che gli guida la macchina gli va a fare le commissioni e così via mentre scusate Brad Pitt appunto colui che fa da autista eccetera a Leonardo Di Caprio Leonardo Di Caprio è il protagonista principale e il suo ruolo è Rick Dalton questa è la prima scena dove compaiono i due cocktail primi due cocktail secondo voi che cosa stanno bevendo guardate i due drink che sono davanti a loro stanno fumando a tavola stanno fumando perché questo film ambientato negli anni 60 negli anni 60 voi sapete che si poteva ancora fumare a tavola almeno fino agli anni 90 metà anni 2000 penso bravi o brava non so chi ha risposto è un Bloody Mary il cocktail che beve Brad Pitt è un Bloody Mary gigantesco perché è fatto in un bicchiere da long drink nel senso il Bloody Mary alla fine è un long drink però lo fa ok Sara perché chiamarti Huawei P Smart 20 19 non so è quasi un nome di un androide a parte gli scherzi dicevo Brad Pitt preferisce un abbondante Bloody Mary e qua non si vede nella scena successiva ci sono anche delle bottiglie di Tabasco e Worcester e Sauce perché tenete presente che negli Stati Uniti il Bloody Mary è un cocktail bevuto e usano il cosiddetto Zing Zang Zing Zang è una sorta di premix che da noi in Italia non si trova però se cercate B Zing Zang non lo trovate se cercate in Italia lo Zing Zang non lo trovate però se cercate su Google scoprirete cos'è no non è un Manhattan attenzione quello che sta bevendo Brad Pitt non può essere un Manhattan perché il Manhattan è intanto ha un colore completamente diverso ma soprattutto in realtà il Manhattan si beve nella coppetta Martini no è un Whiskey Sour cioè in questa scena c'è tra i due il primo cocktail americano oppure l'emblema del cocktail americano che sì è il Martini ma in realtà ha anche il Whiskey Sour quindi abbiamo un Whiskey Sour e lui sarà goloso di Whiskey Sour lo vedremo nel film addirittura se li prepara a casa poi andremo anche nella casa di Brad Pitt cioè nella casa che c'è all'interno di queste di questo film e vedremo la cosa verde è semplice sedano quella cosa verde più che una cosa è un ramo di sedano non una è sedano sedano perché il Vladimir si può garnire anche con sedano sedano inzuppata nel Vladimir e mangiata non l'avete mai vista la famosa costa di sedano costa di sedano fa parte poi del fa parte di questo drink e questa infatti qua questa è la ricetta ufficiale del Bloody Mary questa è la ricetta IBA 45 ml di vodka succo di pomodoro succo di limone due spruzzate di Worcestershire sauce tabasco sale pepe a piacere questa sarebbe la ricetta proprio ufficiale l'ultima del 2020 e attenzione nel 2020 il Bloody Mary lo si considera di prepararlo in un mixing glass con ghiaccio e attenzione hanno scritto servire anche in un bicchiere tipo rock tipo rock significa proprio quei bicchieri tipo rock nel senso quelli belli massicci dove solitamente ho visto servire la coca cola io per fare le foto del libro questo è presa dal foto del libro IBA 2020 ho preferito un classico tumblr anzi questo in realtà sarebbe un Ike Ball però tutto il resto rimane identico e va bene questo è il Bloody Mary viene considerato all day pick me up pick me up significa i cocktail tirami su cioè quelli corroboranti quelli che ti rimettano in sesto poi andando avanti questa è invece la ricetta del Whiskey Sour questa è la ricetta attuale perché ho detto un cocktail tipico americano perché guarda caso l'ingrediente base è il Bourbon Whiskey e avevamo già visto che il Bourbon Whiskey è il distillato principe in America quello che loro sono riusciti a dargli una sorta di marchio di qualità quindi non puoi fare Whiskey nel resto del mondo non lo puoi fare eh no Emanuele il Kentucky non è nel Texas ti stai confondendo eh questa questa è grave il Kentucky si trova nella parte orientale infatti la regina degli scacchi era del Kentucky i primi tutte le scene principali si sono nel Kentucky poi si sposteranno nel Mexico eccetera il Texas la miscelazione texana in realtà risente esclusivamente di eh della vicinanza col Messico quindi in Texas bevono molto tequila eh non certo non certo cioè il whisky sauro lo bevono ovunque però se stiamo parlando di bevande spiritose ossia di distillati il Texas perché Texas New Mexico California eccetera sono tutte confinanti con il Messico quindi risentono di quella fascia lì mentre invece nella parte orientale troverete i classici distillati il il barbo whisky il re whisky poi andando oltre c'è il Canadi ma lì si spostiamo proprio di paese eccetera eccetera il Tennessee il corn e così via whisky non mi ha mai fatto impazzire per cui non ho mai approfondito il mondo delle whisky però vabbè prima o poi lo approfondiremo a un certo punto della scena e qua e qua vi ci voglio vedete i particolari allora intanto noterete qua si vede meglio il bicchiere ma si vede bene il Tabasco e il Worcesters e la Sassa Worcesters che io di solito la usavo sopra le bistecche nel senso quando mi era avanzata ma guarda che ne faccio tipo l'angostura ma anche l'angostura la puoi usare sulle bistecche non solo nei cocktail oppure nelle insalate eccetera è buonissima non so se l'avete mai provata ecco nella in questa foto allora loro due intanto intanto so tre l'altro l'avete riconosciuto sì certo finiamo anche prima delle 18 l'avete riconosciuto l'altro attore quello che stringe la mano a Brad Pitt vediamo se siete esperti cinematografici della cinematografia ve lo dico io è Al Pacino che nella che in questo film interpreta un agente del cinema cioè un produttore cinematografico che va a cercare il che va a incontrarsi con loro due sì Al Pacino Mauri Schwartz questo è il suo nome in questo film però Mauri Schwartz ossia Al Pacino chiede di bere un cognac e però a parte questo eccetera vedete il Bloody Mary le due bottigline di Tabasco e Worcester Sauce quindi c'è anche l'abitudine negli Stati Uniti di condirtelo come ti pare cioè il bar ma te lo fa ma se tu vuoi metterci esatto è quello di Scarface se tu vuoi metterci qualche goccia in più lo puoi fare poi si vede anche che il tipico banco anche se questo è un ristorante loro sono al Mousse & Grill ed è un ristorante però anche i ristoranti hanno l'angolo al bar dove servono il cocktail vedete è servito su un tovagliolino di carta e ci sono i classici stuzzichini anche se ci sono delle ciliegine questo però ciliegine ci sono ci sono delle classiche patatine e poi olive e così via quindi i due cocktail che rompono nelle prime scene sono appunto il Bloody Mary e Whiskey Sour poi avremo Al Pacino che chiederà un cognac ma soprattutto poi vedremo un'altra scena cioè vedremo nel film vedrete un'altra scena dove lui l'invita a casa Al Pacino e c'ha una sala cinematografica privata nel senso che lì si possono vedere tutti i film che vogliono e sua moglie ordina un mine julep la moglie di Al Pacino cioè la moglie dell'attore Al Pacino che l'interpreta un'altra parte anche il mine julep è un tipico cocktail americano e guarda caso è anche uno dei primi anche uno dei più vecchi quindi siamo già tre drink di cui due sono tipici americani il mine julep e il Whiskey Sour non vi sto a raccontare la ricetta che la vedete qua notate il bicchiere che si utilizza che è una specie di il termine tecnico è una mag però in tipo alluminio credo non si chiama anche un alluminio sin acciaio comunque è rivestito non è proprio alluminio ma sono quelle tipiche tazze di rame o di alluminio che vengono utilizzate anche ad esempio per il Moscomiul anche se quella del Moscomiul è diversa e questo è un julep julep è un tipico drink americano uno dei primi insieme a quello che abbiamo già citato poi vi dicevo che in realtà il alpacino lascia bere alla moglie quel cocktail mentre lui preferisce un nsi un cognac nsi andiamo avanti ecco qua questo mi piace questa scena questa scena l'ho trovata su internet in realtà questa scena questa foto l'ha messa lo sceneggiatore del film per far vedere l'angolo bar che avevano gli americani negli anni 60 tenete presente che negli anni 60 gli americani avevano il loro bar in casa ma anche prima avere il bar in casa per farsi cocktail in casa in realtà risale agli anni 30 gli anni 20 gli anni 30 quando col proibizionismo uno si faceva il cocktail in casa lo shaker l'avete visto? qualcuno di voi ha notato in questa scena lo shaker? a parte le pistole che si vede cosa è quella specie di bottiglia? questa questa qui questa è una specie di contenitore per la birra per la birra questa è per la birra tipo birra bavarese eccetera che lui si diverte Brad Pitt a farsi cocktail qua dentro e a berseli quindi però lo shaker è questo ecco qua che sarebbe questo qui questo qui che ovviamente non è uguale a quello del film non è uguale però lo stile dello shaker degli anni 60 erano questi in vetro completamente svitavi il filtro cioè nel senso avevi il tappino avevi la parte un cobbler a tutti gli effetti facevi il cocktail poi quando era il momento di versare toglievi il tappino e versavi si vede l'uovo si vede l'uovo infatti in questa scena qua avevo descritto mi ero preso due appunti quando Dalton torna a casa per calmarsi questo è un pezzo della sceneggiatura va direttamente va per calmarsi ma va direttamente nel suo bar di casa si ritrova a miscelare un whisky sour ma qui in realtà non miscela nulla mette soltanto l'albume whisky limone e simple syrup e questo è quello che fa ovviamente lui non è un barman quindi fa quel che può tanto è vero che si vede usa soltanto intanto utilizza soltanto ingredienti freschi questa è un'altra scena con Brad Pitt dove si vede che si fa i cocktail in questo aggeggino che avete visto qui questo qui lo usa come shaker ma poi beve direttamente da qui dentro e se lo porta anche in piscina manco il bicchiere anche se in realtà questa specie di sdraio galleggiante c'ha sia il posto dove appoggiare una bottiglia sia dove appoggiare un bicchiere e invece queste cosa sono domanda da 50 euro che non vi darò perché nessuno risponde cosa vi sembrano queste ragazzi non devo non fatemi tirare i 50 euro perché tanto nessuno risponde rispondo io nel film c'è un film nel film bicchierini terracotta da shot potrebbe essere una presunta risposta allora nel film c'è un film nel film cioè si si il nostro protagonista Rick Dalton ossia Leonardo Di Caprio dovrà girare alcune scene interpretate nell'antico nell'antico nel vecchio western a in Messico siamo in Messico e quando vanno in questo saloon che trova il suo amico chiede di bere dei mezcal dice cerchiamo di bere cioè vogliamo bere il mezcal come quella volta a Quarez Quarez in Messico ok bene come bevono il mezcal lo bevono in queste anche se nel film avete visto vi ricordate ne avevo fatto vedere dove si beve il pulc cioè in quella specie di brocca di terracotta ecco qualcosa simile perché il mezcal si può bere in quella specie di brocca di terracotta oppure si può bere in queste copite queste si chiamano copite copite da tezcal scusate da mezcal che è presente anche nel cocktail illegal se vi ricordate l'illegal che avevamo visto si può anche servire se uno ce l'ha se non ce l'hai su internet le vendono per cui uno le può tranquillamente trovare quindi viene menzionato anche il mezcal e infatti a proposito dell'illegal ecco la ricetta c'è scritto in fondo se on the rocks cioè con ghiaccio potete usare una tipica tazza di terracotta che più che una copita in realtà è proprio questo questa specie di bricco di terracotta che qui non si vede ma un'altra scena l'avevo messa forse l'avevo messo la volta scorsa questo è il tipico saloon degli Stati Uniti che non esiste più ma qui già si stavano evolvendo nel senso che non era già più un posto da pistoleri dove si andavano a ammazzare ma si cercavano già di evolvere anche la moda di tagliare le teste ai cervi ai bisonti eccetera anche negli anni sessanta c'era ancora in Italia questa moda qua e ci sono delle vecchie case che risagoniano in sessanta che hanno ancora appese queste teste imbalsamate un'usanza che sinceramente un po' macabra però degustibus non disputandum est un altro locale che viene citato è El Coyote El Coyote è uno dei locali più famosi di Los Angeles diventato famoso non soltanto perché viene citato nel film c'era una volta a Hollywood ma perché anche le ragazze le amiche gli amici di Sharon Tate quella sera lì gli amici di Sharon Tate e Sharon Tate erano davvero in questo locale e vanno a bere i margarita ecco questa sarebbe la vera Sharon Tate e questa ragazza bionda e questi sono i suoi amici che poi vennero uccisi tutti vennero uccisi tutti ma comunque l'episodio lo trovate trovate tutta la cronaca di questa cosa questa è proprio una foto degli anni 60 e il coyote c'era già negli anni 60 ma c'era anche prima ed il coyote è nato nel 1931 ed era famoso sia per i suoi margarita stiamo parlando degli anni 30 ma anche per la sua clientela VIP nel coyote ad esempio a proposito di cibo sì le case in montagna scusate ogni tanto leggo Roberta non so che cosa ti riferisci alle case in montagna però vabbè poi lo scriverai dicevo il coyote sì il coyote la cucina del coyote è tipica messicana texana tanto è vero che questo è un piatto tipico messicano ma comunque risale anche al Texas e si chiama Tex-Mex poi lì potete andare a controllare in margarita invece in margarita io ah sì è certo le teste di cerve ma anche ma anche in Austria anche in Austria hanno questa abitudine cioè nelle case ci sono e vabbè quelli sono i trofei del cacciatore dicevo tornando al nostro eh il coyote qual è la specialità locale da bere in margarita ora vi faccio notare che il classico margarita bevuto negli Stati Uniti soprattutto bevuto in California perché poi siamo alla fine in California è quello che è fatto con ghiaccio il eh e vedete c'è sempre la crusta di sale la cannuccia il lime dentro ma è fatto in un bicchiere tipo rock questo alla fine è un bicchiere che somiglia al tumble basso ma è un bicchiere tipo rock ma attenzione io era riuscito anche a recuperare perché quando avevo visto questo film con tutti questi cocktail cittadini ho detto quasi quasi ci faccio un approfondimento hai visto mai che trovo qualcosa di interessante perché volevo capire e mi ero divertito a scaricare dal loro sito perché loro hanno un sito ufficiale come tanti locali la carta di drink dove c'erano alcuni drink e infatti vedete che il il ecco qua il patron margarita patron margarita sta a significare il margarita del proprietario del locale del patron del capo ecco scegli silver silver è una qualità di tequila oppure reposado e la misceli con quentro oppure gran barnier è sweet and sour sweet and sour l'avete mai sentito sono dei premix cioè praticamente un premix acidulo che serve ad aggiungere c'hai già sweet and sour significa agrodolce tecnicamente insomma i margarita che si bevono in california sono fatti così non sono fatti come quelli della casa di carta o quelli che siamo abituati a vedere noi nel ricettario IBA poi ecco questo è classico margarita di cui non non mi dilungherò perché l'abbiamo già visto la volta scorsa e l'ultimo locale che viene citato è casa vega casa vega viene citato perché è un locale intanto più recente se confrontato agli altri è un ottimo locale a quanto ne parlano perché sono tre alla fine questi ristoranti che vengono menzionati nel film c'era una volta a hollywood e anche qua la loro specialità sono i cosiddetti margarita margarita che ne bevono talmente tanti che alla fine decidono di tornare a casa questo è l'interno del locale di casa vega alla fine decidono di tornare a casa in taxi perché erano ubriachi ora il finale ve l'ho già raccontato il finale dal punto questa è la vera Sharon Tate e dietro c'è Roman Polanski attore cioè attore attore regista che nella vita reale era il suo fidanzato lui non era presente quando lei fu uccisa in questo eccidio quindi il finale diciamo una volta hollywood è completamente diverso dalla storia e niente questo è il film ma giusto per dirvi che alla fine uno dice ma se vi dovessero chiedere domani malproft cosa ha parlato ieri nel vostro incontro di pcto ha parlato di cocktail o di film e lì vi dovrebbe venire un dubbio per chiudere perché così ci lasciamo vi lascio andare avevo messo due foto il nostro Shelton che conoscete tutti che c'è una scena che dopo ve la posto direttamente sul canale telegram ve la vedete voi dove lui ordina un virgin cuba libre a che le dice scusa eh ma cosa vuoi coca cola con ghiaccio vatterà a prendere dal frigo e quindi è uno dei cocktail citati in realtà ce ne sono anche altri però dato che è una serie che io non seguo quindi ho trovato soltanto alcuni drink però è interessante lui è un personaggio tutto suo mentre l'altra foto iniziale non mi sono soffermato per il semplice fatto che qui si dovrebbe aprire un mondo perché i cocktail citati nelle nei film con James Bond sono tanti per chi è amante dell'approfondimento e c'ha un po' di dimestichezza con l'inglese io vi consiglio questo libro qua che ogni tanto lo apro anch'io si chiama shaken è solo in lingua inglese e in questo libro qua ci sono tutti i cocktail citati nei nei film di James Bond vi dice quali film in quale scene e così via c'è anche delle belle foto tra l'altro a proposito ecco c'è anche delle belle foto ovviamente è tutto in inglese perché non è mai stato tradotto in italiano il prezzo non me lo ricordo perché quando lo pagai non c'è nemmeno dietro però lo trovate tranquillamente su su Amazon dove volete voi ma ripeto chi lo vuole chi vuole approfondire bene io penso che non ci siano domande se volete fare qualche domandina giusto per e poi chiudiamo ci sono domande quindi alla fine ho parlato di film o di cocktail nessuno risponde ci siete sempre tutti entrambi bravissima Roberta perché questa è la dimostrazione che si può parlare anche di film e di cocktail o viceversa se viene un cliente e dice ma voglia di parlare tu puoi anche prendere spunto da queste scene per capire un pochino io con c'era una volta Hollywood ho semplicemente intuito poi non so se perché dovrei parlare con Tarantino ma non credo che ne avrò è occasione ecco che lui ha messo i cocktail che gli piacciono più a lui e soprattutto ha messo cocktail tipicamente americani anche se in quel film c'è molto B-movie degli anni 70 italiani lui è un amante dei film italiani quelli anni 70 che ora erano considerati di serie B quelli polizieschi eccetera lui è veramente anche un amante dell'Italia Tarantino per cui va bene direi che per oggi siamo a posto spero che vi sia piaciuta la lezione se non vi è piaciuta c'è il rimborso spese ma non ve lo do perché non c'è non è previsto ricordo che chi vuole la mano per completare il PCTO da presentare all'esame di stato sono disponibile nell'altro gruppo barra e miscelazione che è sempre su Telegram benissimo ci vediamo martedì prossimo buona fine settimana a tutti arrivederci grazie a tutti grazie a tutti